Sala stampa del Carrano, vigilia del match contro il Barretta, mister prima trasferta, subito un avversario molto impegnativo con Napoli Sportiva Santa Maria però desiderosa di riscattare la prima sconfitta stagionale. Sì sicuramente ma noi ogni domenica sarà un avversario ostico e dipende da noi ovviamente come interpretiamo la gara. Facendo un salto a sette giorni fa non credo che sia meritata la sconfitta quindi ci siamo portati sensazioni positive durante la settimana. La squadra ha messo la giusta cattiveria e la giusta attenzione per preparare meglio questo ostacolo difficile ma non proibitivo. Quindi come sempre la Santa Maria al di là del risultato finale va in campo per vincere e per portare a casa una buona e ottima prestazione. Ti chiedo un giudizio anche sull'avversario e Barretta ha perso all'esordio contro la Paganese ma parliamo anche in questo caso di una delle squadre addette ai lavori che può arrivare fino in fondo per la vittoria del campionato. Sì ho visto quella partita in effetti Barretta comunque ha costruito tanto e ha legittimato in campo la bontà della rosa che ha. Non dimentichiamo che oltre ad avere ottimi giocatori che scendono dal primo minuto anche colori uguali subentrano non sono da meno. Quindi ripeto incontreremo una squadra che nonostante abbia incappato in una brutta sconfitta a Pagani è sempre pronta e desiderosa di arrivare in Lega Pro e non dimentichiamoci anche dell'ambiente che troveremo dove sicuramente ci saranno tanti migliaia di tifosi a sostenerla. Che settimana è stata per il suo Santa Maria? Settimana tranquilla abbiamo analizzato la partita, l'errore ovviamente sul gol, gli errori in fase realizzativa che comunque abbiamo creato diverse occasioni ma sempre in un tono positivo, in una mentalità costruttiva perché la squadra è giovane e purtroppo molte volte la crescita passa anche attraverso le sconfitte. È chiaro che dobbiamo evitarne, quanto meno ne facciamo tanto meglio è, però ripeto i ragazzi disponibilissimi e si sono allenati con un grande intensità la condizione incomincia a salire quindi sono molto fiducioso per questa trasferta. Un'ultima cosa mister, qualche buona notizia arriva anche dall'infermeria? Sì, abbiamo recuperato qualcuno, penso che Martellì si aggregherà anche in un siante che ha avuto un contrattempo al collaterale su un contrasto ma soprattutto, ripeto, coloro i quali si sono aggregati nelle ultime settimane stanno incominciando a prendere condizione quindi sono delle frecce che il mio arco ovviamente potrà sfruttare al di là dell'avversario che andiamo ad incontrare. Grazie mille mister. Grazie a voi. Grazie a voi.